Ben trovato fratello Corvo, per la luce, l'onore e il cuore, Saul. Maestro Fenice, Saul. Come mai volevi incontrarmi, ho bisogno del tuo aiuto per spiegare questa cosa della linea temporale desiderabile, la numero 1, mi sembra che te la cavi benissimo, anche senza il mio aiuto, non mi pare, tantissima gente molto confusa. Sono temi troppo lontani dalle loro vite quotidiane, il tuo compito era quello di puntare il dito verso il sole. Ma coloro che sono ciechi alla sua luce non vedranno nemmeno il dito, speravo che tu riuscissi a trovare le parole giuste che risvegliassero l'ardore nei loro cuori, chi si alimenta ogni giorno di paura e rabbia sarà destato solo dai canti degli uccelli. Che canteranno inni al soli il giorno in cui sorgerà rinnovato, Maestro, perdonami, ma questo è un linguaggio che, pochi, possono capire, sei stato tu a chiedermi di rivelare questo mistero, che per così tanto tempo fu celato. Queste parole si accordano all'onda dell'uno. Quando sarà il momento diverranno limpide per tutti, lo capisco. Però vorrei comprendere se sto spiegando le cose in una maniera corretta usando il linguaggio più familiare alla gente. Nella linea temporale desiderabile, durante l'evento, l'umanità passerà alla quarta densità. Ci sono molti equivoci su cosa questo significhi. Non si tratta del paradiso, bensì di una vita su un altro pianeta. Totalmente simile a quella odierna, ma con una differenza fondamentale, saremo empatici, sentiremo le emozioni degli altri. Il che renderà molto difficile, se non impossibile, essere egoisti. Cosa ne pensi? Quindi non sei d'accordo? I raggi che tutto toccano non si fa toccare, maestro, ti chiedo di aiutarmi per aiutare tutti, in questo momento storico, e sia. Gli eventi che si stanno succedendo mi inducono a rompere il silenzio. Come credo sia ormai chiaro, stiamo affrontando nemici da un lontano passato. Demoni tornati indietro da quello che credevamo fosse quel abisso in cui li avevamo ricacciati. Se sono tornati è perché non era così. Li avevamo respinti ma non domati, ed ecco che ritornano a presentarsi davanti ai nostri occhi. Ora è giunto il momento di sconfiggerli. Per sempre. Questo che stiamo attraversando è il tempo che chiuderà un ciclo della grande guerra santa. In un modo o nell'altro. La prospettiva di essere annientati è reale, teniamolo presente. Da chi dipende l'esito? Da noi. Da tutti noi. Per questo motivo voglio anche io contribuire con qualche parola. Ma vada bene, il contributo del gran maestro è solo pressione, quindi non ti aspettare ciò che non posso darti, grazie, così sia, e che l'antico di giorni mi assista. Comprendere la grande guerra significa percorrere la via di mezzo, la via giusta, attraversando i ponti dell'opposizione inconciliabile e dell'oscillazione, per arrivare infine all'unione che concilia gli opposti. Questa unione è quello di cui è scritto quando dice, il suo vessillo su di me sarà l'amore. Quale amore? Quello che lega il danzatore alla tenace, attraverso il quarto sentiero. Questa porta, che si apre per accogliere il pellegrino, non è mai chiusa. Essa è la porta della povertà, così è chiamato questo quarto sentiero. Ora, questo è anche il toro rosso e l'eremita in unione. Vediamo chi sono costoro. Il primo è il toro rosso, sesto sentiero, portatore del sole. Egli conserva dentro di sé l'ardore, facendolo diventare vita. Questo è opposto all'espressione della luce che diventa pietra. Elopoli. Chi accoglie la luce dentro di sé, è come una lampada che risplende alla vista degli uomini. È merito della lampada? No maestro, è a causa della luce, infatti. Esaminiamo la natura della luce. La luce è formata dal pendolo dell'equilibrio della bilancia, dal toro stesso, dal signore della vita. E dalla portatrice di vita. Sembrano tre cavalieri, ma sono in quattro, lame, vau, caf, samec. Nell'alfabeto latino sarebbero le lettere, l, u, k, s. Insieme formano la parola, lux. E questa lux è equilibrata secondo te? Penso di no, ma non sono. Sicuro del perché, non lo è. In quanto è spostata solo sull'amore, ma questa grazia si disperde, come seme buttato nel vento. Equilibrio, invece, luce, è cum lux. Che sarebbe come dire, prendi la luce dentro di te, in ogni istante. Nell'onore come nel cuore. Così, essa sarà presente nel pilastro della fermezza tanto quanto in quello dell'abbondanza. Il secondo componente dell'amore, è il profeta della forza trasformata. Trasformata in quanto viene cambiata da forza in luce. Si tratta del decimo sentiero, il quale riassume tutta la forza dei precedenti. Esso governa, attraverso la Iod, il mistero del lingam e del suo prepuzio. Attraverso questo fallo, attinge alla fonte della sapienza, oltre il quarto ponte. Come offrirai questa sapienza? È scritto nel mistero del libro, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. L'eremita è noto per reggere un bastone e una lampada. Il suo insegnamento è nell'uso di entrambe queste armi nella grande guerra. Il bastone è fatto di albero di mandorlo, che è l'uz. Della lampada ho già parlato, sì maestro, per questo trasformerai l'amore in sole, il quarto in sesto. Luce astratta che diviene luce inclusa. Così da realizzarla sia con l'onore che con il cuore. Ma come farai praticamente? È scritto nel mistero del libro, stavano insieme ed avevano ogni cosa in comune. Parlo proprio con te, stavano insieme ed avevano ogni cosa in comune. Questo è ciò che devi fare. Non siamo forse noi, esseri umani, ditta della stessa mano? Non è forse questa mano quella che ci indica la via? Segui questa decima via, quella del profeta, e chiedi agli dèi, per trovare quelle risposte che Adamo non conosce. Allora, quando avrai operato la trasformazione alchemica dell'amore in luce compresa, affronterai il signore delle bugie. Allora, e non prima. Grazie a tutti.